Ciao ragazzi, ciao ragazzi, oggi siamo al nuovo video di Fortnite Battle Royale, oggi siamo in compagnia di Digo Figo, saluta amico! Digo Figo, vabbè non ha il microfono però vi saluto, salvatore c'è Mattia, salvatore c'è Mattia, king, milone, king e melone, siamo tutti negri, come vedete lì dal titolo, siamo negri, l'ho inventato io, l'ho inventato qua, no, l'ho inventato io, 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 l'ho inventato io, che diceva YOLO? no, 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 ma no, però chi è quella voce, aspetta, Diogo, Diogo, no, quello, Mattia parla, ciao! Lui ha detto, tu Mattia hai detto Yolo, infatti, Yolo invece è Salvo che ha detto, Salvatore come non so come si chiama, che ha detto, anzi no Milano è sbagliato, tu l'hai detto, tu negri. E io direi, io dico, e io dico invece seguitaci su Instagram, io mi chiamo King Games 09, tu come ti chiami Mattia se ce l'hai? Io non ho Instagram, non me lo fai stallare. Chi, chi, chi? Milone, Milone. Ah ok, e come ti chiami? Agulo Milone, Agulo. Agulo, poi seguite anche Agulo Milone su Instagram. E basta. Non mi seguite perché non c'è un canale? YouTube. Ma ma, cosa stai, ma dove sei andato a Pinnacoli? Perché sono andato a Pinnacoli? Eh, sono andato a Pinnacoli, sono andato a Pinnacoli perché? In quelle monde. Perché camperi? A Pinnacoli si campera. Aspetta, voglio dire cosa stai facendo, voglio dire cosa stai facendo. Lutto, lutto. Guarda a me, guarda a me. Aspetta, voglio dire dov'è? Vedi che costa. Allora, oggi ti chiamerò costa. Oh my god. Ah ok. Sei in giro per il mondo a combattere i nemici. Sì, infatti, bravo. I nemici crudeli. Non pensare a quello, il Nappo, pensa all'altro. Oh non ha più munizioni. No. Il Nappo però ce la sarà a combattere. Nappo contro Nappo. Ha vinto il Nappo negro. In realtà è bianco. Che duzzista che sei. Quanto? Quanta vita c'ha? Ma ne ha eliminato uno. No. Che sono tutti tutti. Schere. Vabbè, questo è un volo. Ho fatto un volo. Oh, facciamo un volo esplosivo. Sono una bomba. YOLO. Che battuta. Non ci credo. La mia prima battuta è intelligente. Agostino col pisellino. Ce l'ha molto carino. No, ce l'ha molto lunghino. Che sei scemo. Costa, devi mettere il negro. No, no, non ho metto il negro. Agostino ha messo il negro. Io ho metto il negro. Tutti i negri. C'è una faccia nera. Diciamo un po' nera. L'unico che non c'ha il negro è YOLO. Qua sta, quello non si vede la sua faccia. Quindi, guardate qua. No, 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 no. Ma lo sai perché è il negro alla deriva? Perché ce l'ha piccolo. Alla deriva. Tua nonna. Sì. Tua nonna. Bravo. Nonna Maria. Tu che sei scemo. Non nominare mia nonna. Non è che non nominare mia nonna. Ma è realtà mia nonna è tua zia. Eh, no, no, nonna Maria. Ma che sei scemo, ma che scemo che sei tu. Non ho capito. Ma con i pinnacoli. L'hanno delle altre. No, no, palmetto, palmetto. Sì, a palmetto. No, a pinnacoli. C'è, a King Milone. Stiamo nominando le nonne. Ma in realtà siamo in un video. Quindi. Nonni negri. Le nonni negri. No, che c'è, nonni negri. No, ma io me lo sono scordato pure. No, ma cosa? Sto andando a palmetto. È negri, è me? E sono negro. Non posso parlarti. Io sono negro. E io sono negro. Perché sono negro. Non lo so perché sono negro. Non venite con me e sennò vi scanno. Questa è la grammatica. Non vi preoccupate. Non è alto. È la grammatica. È solo che ho un po' scienziato pazzo. Tranquillo. Oh, andai gattaro. Costa, sta venendo da te perché ti sta facendo un video. No, ragazzi. Non venite a me, no, dai. No, io non sono da te, metto. Io sto venendo da Costa perché sta facendo un video. Quindi voglio giocare con lui. Oh, Costa sta venendo uno. È a picco nozze. A picco nozze. Dammi qualcosa. Non ho armi. C'è solo questo. C'è un RPG. Sper di dire che non c'hai armi. Mi sono suicidato. Evviva. Aiutami. Ne ho uccisi due. Sono forte. Sei forte. Sghiera. Però mi serve un armi. Ti spiegati. Ah. A picco nozze. Non lo voglio uccidere io a picco nozze. No. Le piccolate finiscono male. Cazzi. Sono cazzi volanti. No. Mi stracci. Tu nobbo, non mi puoi uccidere a piccolate. Ma con i 4 sì. Sì, a terra. Oh ma, ma dove siamo andati quelli due? Perché non siamo andati a palmetto paradisiaco? Perché non facciamo una partita per il conto nostro per ora? Matti, Matti, facciamoci una partita. Sì, facciamo una coppia. Però è normale, ok? Andiamo sempre a pillare con i pendenti. Perché? Perché così? Perché per ora voi state giocando. Poi ritorniamo. Una partita per noi. Perché così? Vediamoci subito. Un gignemelone. Facciamoci una coppia normale. Sì. Sì, ma tu c'è la skin bellissima. Ah, scarto, scarto. Sì, ma io non c'è l'unica skin che c'ho. Vero? Che tristezza, non ci credo. Mi sta facendo intrestire. Ma no! Assapora lo shop, lo shop assapora. Raga, nei commenti scrivete. Ah, cap YOLO. Basta YOLO. Finisciuto, vatti inna caso. Ma qualcuno è della Sicilia. Vatti inna caso. Guarda, assapora lo shop. Ah, vero? Sei della Sicilia. A Palermo, tu. A Demini. A Demini Venese. Io ci sono andato. Io ci sono andato. Ah, però a Pinawe ci sono andato. Vabbè, ormai ho tomato. Vai, ho tomato. Perfetto. Oh my God. Qualcun altro della Sicilia? Tu cugino non è la Sicilia? Eh sì, dove? Termini, sempre Termini. Eh. Io sono da Capitale. Io sono della Capitale. No, però siamo vicini. Siamo vicini. Non siamo vicini. Non siamo lontani. Lì, che siamo lontani. Ma in realtà io sono a Palermitano. Ah, bravo amico. Sì, però perché è un paese di Italia. Io anche a Palermitano. E' una che a Palermitano. Ma c'è qualcuno? Aiuto, 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 aiuto. Mi senti qua. Ah, ah. Ma quanto? Per favore, dai. Ah, Capu, che sei alto. Sì, hai evito. No, ma come ho fatto? Ma quanta vita? Ha 30 di vita. Ha 30 di vita. Io, dico figo. Ehm, comunque andiamo dopo il... Ti dico io. E venga. No, ma dico figo che fa? Non soppia il microfono. Non ce l'ha il microfono, ancora non l'ho capito. Sì, ma dove parla? Si parla. Parla le banane. Assapora, assapora i balli del postbattaglio. No, non ti prendere questo, no? Non te lo prendere. Ma che so tutti questi messaggi, basta. La pizza. A te piace l'arancina? Piccolo non è pezzo? No. Tu sei un abbo. Comunque io. Non ti piace l'arancina? Certo. Ma è buonissima. Lo so che è buonissima. Chi è? L'arancina. Dico figo. Dico figo, è morto. Costa, hai mutato a un king of merone? Sì, perché? No, perché, vabbè. Perché l'hai mutato? Non so se devo darlo sul muto. Ciao amico. Dai, andiamo a Boschetto? No, no, a Boschetto no. E dove? In questa città. Ok. Ma anch'io. E la tua torta a me non piace. Voglio che... Ma a me sì. Lo messo per farti compagnia. Preferisco appicco. Raga, noi stiamo vincendo. Abbiamo stato due di killer. Cioè, io... Una kill è una cosa. No, raga. No, io, io, per l'ora ho cinque kill. Aiuto, dico figo. No, dico figo. Dico figo. Dico. Costa. Ma quanti erano che mi stavano sparando? C'è il rapace. C'è il rapace. C'era il rapace. Ma non ci posso... Ero un team. No, ma c'è... Mi ha ucciso uno con tre kill a caso. Mi arriva uno a caso. A caso. Mi ha ucciso il nabetto. No, il rapace. Con la pistola. Ah, no. Ah, no. Ah, ok. Il nabetto con la... Il nabetto mi ha ucciso a me perché io non c'avevo manco un'arma. Volevi dire il negro. Ecco, appunto, sì, il negro. Il negro è un nabetto, ragazzi. Il negro è un nabetto. No, il nabetto si sta guardando le parodie. Spero, forse, le parodie di Ladybug. Le? Guarda, solo Ladybug. Chiamami Ladybug. Ciao, Ladybug. Ciao. Ciao. È il mio sogno vederti. Ah, ci incontriamo a Palermo. E al centro di Palermo dove c'è il teatro massimo. Così mi vedrai. Ha bisogno più visunto stavolta. Perché hai più il nabetto? Mi venite a piangere. Ah, siamo in 100 contate. Perfetto. C'è un nabetto che lo vado a prendere io. Dico, dico. Oh, ma Mattia, se sei vero palmitano, il Palermo è in serie A o in serie B? Serie B. Bravo. Che domande mi fai? Vedi, che domande fai? No, domanda è vero palmitano. Ma che sei proprio nonno? Mio nonno da 80 anni. Vabbè, tuo nonno è normale che si guarda ogni giorno queste cose. Ah, fuori di acentrata. Mamma mia, lo scaracca. Epico. Ma che? What? Ma che altro guarda lo scaracca? Epico. Ma non siamo su un parco giochi. Altro chino. Ragazzi, dove vai? Vi facciamo un parco giochi. Costa. Curami. Sono morto. Diego Costa. Ma che c... Oh, dai. Diego Costa. Bravo amico. Entra. Sbrigati. Vabbè. No, bo. È qua. No, bo. Ma... Questo ha godito di più. L'ho sentito. Vabbè, è tì. Dove giocare. che senso si è morti tu vedi carlo di giocare con noi si va bene il mio fisico che arriva a 5 like salutiamo tutti salutate negri ciao ciao negri ok l'altro c'è un è di però non può e ora ci vediamo un prossimo video ci arriva a 5 è che seguite a me king in spino ea melone che si chiama agostino milone allo stile melone agulo milone agulo e seguite me king cats 09 agulo milone e ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi grazie a tutti